Sera siamo la scuola calcio Troise, veniamo dalla provincia di Napoli precisamente dal quartiere Volla Ponticelli e siamo molto contenti di essere qui, è la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione e abbiamo abbracciato i principi morali di questa manifestazione che mira soprattutto al divertimento dei bambini. Siamo molto contenti della manifestazione che è stata fatta oggi, è stata una manifestazione piena di principi positivi soprattutto per i bambini che si sono divertiti e speriamo di fare un bel torneo all'insegnato del divertimento.